Buongiorno a tutti, oggi parliamo del sorriso nel ritratto, comunque in generale dell'espressione felice o dell'espressione triste o incavolata. Questo argomento l'ho introdotto nelle storie su Instagram, a proposito mi raccomando se non mi seguite su Instagram andate, il mio profilo è qui sotto in descrizione, comunque da El Maselli tutto attaccato, perché appunto un qualche giorno fa mi è venuto in mente questa cosa che nelle foto di ritratto, diciamo foto dove ci sono delle persone, soprattutto singole persone, le espressioni raramente sono sorridenti. Allora, intanto mettiamola così, il sorriso per me è un'espressione positiva, la faccia arrabbiata o triste sono espressioni negative. Ora, magari non siete d'accordo su questa cosa, però io parto da questo presupposto, da un lato un'espressione positiva, da un lato un'espressione negativa. E quindi mi chiedevo, ma perché nel questo tipo di foto in cui si esalta proprio la personalità, cioè la persona, ecco, poi vediamo magari personalità, però sicuramente si esaltano le persone, perché ritrarle quasi sempre, non sempre assolutamente, ho fatto degli esempi anche ovviamente di espressioni felici, però perché quasi sempre queste espressioni sono tristi, malinconiche o arrabbiate addirittura? Quando vogliono comunicare potenza, in realtà più che potenza spesso comunicano rabbia, che insomma non è proprio la stessa cosa, se la vediamo da un certo punto di vista. Ma il punto è perché, dunque, ho fatto questa domanda a voi su Instagram e mi sono arrivato un po' di risposte. Molti erano in linea, diciamo, col mio pensiero, che era un po', insomma, sballordito dalla cosa e che in realtà preferisce, io, insomma, così preferisco le espressioni positive a quelle negative. Alcuni mi dicono che appunto un sorriso comunque anche senza denti è meglio di un'espressione arrabbiata. Qualcuno giustamente mi dice, dipende da cosa vuoi comunicare. E qui, secondo me, c'è il punto fondamentale. Perché poi invece altri dicono, qualcuno giustamente, scherzando però, secondo me un pochino ha anche riassunto un altro tipo di pensiero, perché la gente è sempre in casa. Molti dicono che è una questione di intensità, cioè le foto con i volti più tristi, più arrabbiati, sono più intense. Qualcuno anche dice che quel tipo di espressione, soprattutto quelle un po' tristi, malinconiche, aiutano a distendere i muscoli del viso e quindi si appare migliori, diciamo, si appare più belli fondamentalmente. Se lo si fa per distendere il viso, per mettere il volto in una certa maniera, insomma, lo si fa per apparire più belli. Ecco, il punto qual è, secondo me, in tutto questo? La comunicazione. Giustamente, come diceva qualcuno, dipende da quello che vuoi comunicare. Ed è lì che io mi porrei. Invece sembra che, in alcuni casi, alcune sono le opinioni di chi mi ha risposto, ma io credo che in molti fotografi ci sia un po' questo. Cioè, il tentativo di fare la foto che colpisca di più o in cui magari i soggetti siano più belli, più accattivanti, magari più sensuali. E diciamo che ci può stare da un punto di vista di comunicare quella cosa. Ma quello che mi chiedo io, che magari sembra una domanda banale, ma il punto è proprio porsela questa domanda, anche se sembra banale. Siamo sicuri che vogliamo sempre rendere quel messaggio? Siamo sicuri che in quel momento, in quella foto, veramente volevamo rendere quel messaggio? E non volevamo magari rendere qualcos'altro? Io credo che il punto dipenda anche molto dallo scopo della foto. Si ritorna al perché. Ne abbiamo parlato del perché, no? In un altro video ve lo lascio qua. Perché si sta facendo quella foto? Quando diciamo ritratto, che cosa intendiamo? Vogliamo ritrarre la persona per come è veramente nella realtà e cercare di mettere nella foto un po' la sua personalità? Beh, allora dobbiamo magari stare un pochino attenti a questa cosa perché magari è una persona che, non lo so, sorride sempre o comunque è una persona che almeno appare molto positiva o che vuole apparire positivamente in quelle foto. fargli delle foto con quell'espressione per quanto possa rilassare i lineamenti del volto per quanto lo possa far apparire più bello più accattivante, più sensuale insomma, magari non siamo veramente ritraendo la persona oppure magari quella persona vuole essere ritratta cioè ha bisogno in quel momento di essere ritratta in quel modo se è una foto fatta su commissione magari scegli, ecco magari deve... secondo me è ragionevole che il soggetto scelga poi ci sono tutte le foto che magari non sono in cui il committente non è il soggetto che è davanti ad esempio nelle foto di moda e lì credo che ci possa stare che questa espressione sia un po' veicolata da moda per moda intendo in modo generico cioè sia la moda nel senso che va così adesso fare questo tipo di foto ma anche funziona meglio da un punto di vista di comunicazione dello stile magari dell'abbigliamento anche che debba essere in linea col messaggio magari generico generale del marchio, no? magari che si sta pubblicizzando dovremmo chiederci veramente in che modo voglio che questa persona appaia voglio io o vuole la persona quanto in quella situazione il fotografo ci mette del suo da un punto di vista di competenza tecnica e quanto da un punto di vista proprio di messaggio da comunicare cioè il ruolo del fotografo a volte e insomma soprattutto quello di noi fotoamatori è metterci tutto il messaggio, il modo, il linguaggio e tutto quanto in altre situazioni il fotografo deve veicolare un messaggio grazie appunto al suo strumento comunicativo che è la fotografia ma il messaggio è già dato lo dico perché a volte ho assistito mi è capitato di assistere a delle sessioni di scatto in cui il fotografo proprio chiedeva no, no, non ridere non ridere non si ride nei ritratti addirittura proprio in modo proprio diciamo assoluto o comunque no chiedeva di non ridere e mi chiedevo in quel momento ma questa cosa di non ridere la sta decidendo autonomamente il fotografo o c'è un accordo perché magari, ripeto se quel servizio era chiesto e l'intenzione di quel servizio era del soggetto che si stava facendo ritrarre se in quel caso il soggetto vuole sorridere credo che dovrebbe o comunque ci dovrebbe essere uno scambio tra fotografo e soggetto per insomma capire quale deve essere il messaggio finale poi appunto in tutto questo c'è proprio il fatto di positività o negatività o il di confondere la rabbia con la potenza con la solennità ecco questo è un purtroppo è un po' insomma un vizio della nostra società in cui la forza si esprime con la violenza e quindi con la rabbia e questo insomma non può che essere sbagliato perché la forza si può esprimere in altro modo oltre a la rabbia e quindi la violenza la negatività uno degli esempi peraltro di questa cosa penso sempre a le foto delle supermodels di Peter Lindbergh ne ho parlato in un video non su questo canale ne riparlerò un video che riproporrò su questo canale per la serie grandi fotografi una delle sue rivoluzioni e le rivoluzioni vere che ha fatto Peter Lindbergh è stato ritrarre le grandi top model quelle che poi sono diventate appunto le supermodelle in una maniera che nessuno aveva mai fatto appunto senza trucco vestite in una maniera estremamente semplice in una situazione in cui ridono insieme in cui sono spensierate e questa cosa pare insomma si dice che fece incavolare tantissimo Vogue che pare fosse all'allora committente che disse appunto ma che hai fatto ma sei matto ti abbiamo messo a disposizione queste super mega top model ce le avevi tutte quante insomma c'erano le varie adesso non ricordo l'indevangelista Naomi Campbell ce n'erano un po' insomma di queste proprio grandi Siddi Crawford tu le hai sprecate così facendo sta cosa che per noi non vuol dire niente la moda è altro no le foto di moda sono tutt'altro in realtà poi quelle foto sono diventate famose dopo perché cambiò il credo l'editor di Vogue insomma qualcosa all'interno e le foto vennero ripescate e poi ebbero un successo enorme e secondo me in quello c'è molto la chiave di lettura di questa storia del sorriso non sorriso ha scardinato un pochino quella regola di tristezza malinconia volti un po' arrabbiati che per qualche motivo sembrava fossero l'unico modo di ritrarre le top model io non non frequento le sfilate di moda ma da quello che vedo ogni tanto insomma che mi capita di vedere in televisione o che sembra sempre che abbiano questa faccia insomma o incavolata o triste per qualche motivo non sono tutti così però a quanto pare lì c'è molto questo modo di comunicare questa più che questo modo proprio questo messaggio là dentro e insomma credo peraltro sia anche una cosa brutta proprio in generale non una cosa buona comunicarla in questo modo però ecco alla fine di tutto questo discorso ripeto io non voglio dare risposte ma più che altro volevo condividere con voi questo dubbio e quindi queste domande che credo che ci possono aiutare nel momento in cui facciamo delle foto di questo tipo credo che dovremmo essere consapevoli del fatto che l'espressione del volto all'interno di una foto non può essere solamente funzionale a rilassare i lineamenti del volto o a rendere la foto più accattivante o più bella ma sono all'interno proprio di una foto di ritratto quindi una foto di una persona sono proprio il messaggio e quindi quelle espressioni sono fondamentali anzi probabilmente sono davvero la cosa fondamentale se la fotografia ha lo scopo di ritrarre la persona dovremmo considerare l'espressione con cui ritraiamo quella persona al fine di ritrarre e di descrivere quella persona in quel modo quando magari la foto è una foto che ha un altro scopo in cui quella persona in quel momento recita un ruolo che può essere quello appunto della top model ditemi che cosa ne pensate mi raccomando nei commenti se siete d'accordo se non siete d'accordo se avete riferimenti di questa cosa se vi sembra un discorso banale per me non è stato banale nel senso che ero partito con un'idea poi ragionandoci su guardando le foto facendo riferimenti appunto all'Inberg ho capito personalmente e sono arrivato a questa conclusione però insomma fatemi sapere che cosa ne pensate ovviamente mi raccomando se vi è piaciuto questo video mettete un like se non siete iscritti iscrivetevi al canale grazie mille di avermi ascoltato come sempre buona fotografia e alla prossima ciao ciao